segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te il sondaggio che aveva letto mentana dice che per il grosso dell'elettorato del centro-sinistra vorrebbe ancora draghi a palazzo grigi se vincete voi anche voi volete vari a parlare grafica se vinciamo noi cerchiamo di garantire una speranza di futuro al paese e naturalmente ci proponiamo con la nostra coalizione poi vedremo come va dico solo che la destra è nostalgica delle cose sbagliate nostalgica della leva obbligatoria per disciplinare giovani noi siamo nostalgici invece del lavoro stabile e ben retribuito per il loro futuro ecco rimettiamo il futuro nelle mani dei giovani e non i fucili